Ciao a tutti ragazzi, sono KingBlazers e eccomi qui in un nuovo video dove non giocherò Sì, sono nella mappa del King Survival ma non giocherò perché questa è una prova video di Minecraft Sì ragazzi, guardate come mi gira, guardate senza lag, proprio stupendo, guardate, guardate, sto anche correndo Guardate, va veramente bene, va veramente bene, abbiamo trovato il modo ragazzi, abbiamo trovato il modo Poi io clicco e fa subito, non dopo 10 anni, e vai ragazzi, guardate i salti, normali Adesso forse riuscirò a fare anche parkour map, la mia stupenda casa Sì, se non sentite i suoni di Minecraft è perché si bugga ma non è il lag Però guardate come mi gira, guardate ragazzi, veramente stupendo, epico Ho trovato il modo dovevo solo cambiare i frame di Count Asia, dovevo solo cambiarli perché io giocavo a 60 frame ragazzi Ci credo che laggava, ci credo L'ho messa a 15 e guardate, 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 sì sono contento Quindi arriveranno più spesso video di Minecraft e ritorneranno le aventure map e le parkour map Ok ragazzi, la prova video finisce qui E boh, ci rivediamo al prossimo video, video serio Da KingBlazers è tutto Ciao a tutti E ci si vede in un altro video, ciao ciao